oggi voglio tornare su di un concetto fondamentale la differenziazione perché perché nella definizione che abbiamo studiato alcuni giorni fa e cioè il fatto che la strategia sia un modo unico di creare un valore sostenibile ebbene abbiamo già discusso il concetto di value creation cioè di creazione di valore che è un fattore soggettivo non possiamo dire che sia oggettiva questa matita dipende dalla percezione di valore che al cliente l'altro elemento fondamentale è il termine unique a unique value creation ora sustainable è l'altro argomento di cui parleremo in una successiva successiva puntata vedete le definizioni che ci sono nelle altre parti del mondo a differenza dell'italia non parlano di qualità la qualità non ha nessun significato in strategia dire che questa è una matita di qualità o che questo video un video di qualità è del tutto soggettivo quello che invece è importante è capire il concetto di differenziazione di prodotto mentre là fuori tutti si affannano dire che il loro prodotto è più bello o più economico più performante degli altri voi dovete prendere una strada molto diversa ed è questo che faccio con i miei clienti in consulenza ci mettiamo a discutere di come distinguerci dagli altri un cliente che opera per esempio nel settore acciai abbiamo iniziato la giornata con un po di depressione perché il settore è in crisi ma alla fine della giornata sviluppando dei modelli dei modelli di strategia blue ocean che è stata inventata da kim e moborni a due accademici circa vent'anni fa ebbene la ricerca del cosiddetto oceano blu cioè di un posto dove non pescano tutti gli altri è un concetto di uniqueness è un metodo di differenziazione non è l'unico ci sono molti tool per esempio un altro che mi viene in mente il framework for apprese in resources and capabilities qualcuno dice ma perché parla in inglese beh perché quando poi bisogna andare sui fondi bisogna andare sulle banche bisogna andare sul mercato è un linguaggio che ormai usano tutti a un certo livello dipende se volete crescere o rimanere dico un'altra espressione inglese to be stuck into the middle cioè bloccati nel mezzo e michael porter che un altro autore di strategia dice se tu dici io faccio il giusto prodotto al giusto prezzo oppure un buon prodotto a un giusto prezzo beh sei già destinato a rimanere impantanato cioè bloccato nel mezzo non potrai mai raggiungere una posizione di leadership perché beh perché ti manca questo elemento della definizione uniqueness l'unicità ora naturalmente non sto parlando di dire che cos'hai di unico in senso assoluto ma in senso relativo il mio lavoro di consulente sarà quello di aiutarti a ragionare su dei punti di forza che hai e che vanno enfatizzati sul mercato perché sono veri e propri elementi differenzianti nel senso che per almeno un particolare un dettaglio un qualche cosa tu possa affermare che tu sei unico io per esempio sono l'unico in italia che fa strategia umanistica e ci sono tantissimi che seguono la mia scuola tanti imprenditori che sono in consulenza con me perché perché io non guardo soltanto il lato finanza ma guardo anche il lato delle energie umane e questa è una impostazione chiaramente latina diciamo mediterranea che incontra l'anima di molti imprenditori vi ricordo sempre di scrivermi sul sito valerio malvezzi punti t e guardate che si stanno accumulando un po di chiamiamole così ore di anticamera quindi fatelo senza indugio a presto per vederci